Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi elezione sul partito nazionale fascista. Prima però ricordatevi di lasciarmi un piace qui sotto, iscrivervi al canale e seguirmi anche su Instagram. Mi trovate come Diario di Charlotte. Ci siamo lasciati nella scorsa video-lezione, prima video-lezione dedicata al fascismo, con la fondazione del partito nazionale fascista nel 1921. Vi lascio qui il video da recuperare. Oggi vedremo insieme il partito nazionale fascista, quindi non parliamo più di fasci di combattimento, ma di un vero e proprio partito. Si passa dunque dal movimento al partito. L'anno scorso voi avrete affrontato all'inizio dell'anno la sinistra storica, la destra storica, Giolitti. Bene, in questo senso ritorna un po', ritorniamo a parlare della figura di Giolitti. Giolitti che per risanare il bilancio statale avvia una serie di riforme. Riforme che aumentano la pressione fiscale. Questa decisione però da parte di Giolitti incontra delle opposizioni, tra cui quella della stessa destra. E allora, nel maggio del 1921, Giolitti decide di sciogliere le camere e indice nuove elezioni. Le elezioni del maggio del 1921. Tuttavia, i liberali giolittiani sono molto preoccupati per quanto riguarda queste elezioni, perché temono di non riuscire a vincerle. Soprattutto hanno paura che la maggioranza vada al partito socialista e al mondo cattolico, potremmo dire. Allora, Giolitti che cosa fa? Giolitti vuole comunque che naturalmente i liberali giolittiani riescano a vincere le elezioni. Quindi crea una coalizione, un cosiddetto blocco nazionale. In questa coalizione, quindi, entrano a far parte, non soltanto liberali giolittiani, ma anche nazionalisti, fascisti, democratici e radicali. Come vedete qui, in questo blocco nazionale figura il nome anche di Benito Mussolini, per il movimento fascista. Il movimento fascista sta assumendo una rilevanza nazionale. Gli iscritti, alla fine del 1920, sono 20.000. Neanche un anno dopo saranno 250.000. Un bacino elettorale che ormai fa gola a tutti i liberali conservatori. Questo blocco nazionale riuscirà a raggiungere una maggioranza. Una maggioranza molto stretta e i fascisti otterranno 35 seggi. Mussolini, che trovate qui nella lista dei candidati, entra in Parlamento. Quindi il fascismo diventa un vero e proprio partito nel novembre del 1921. Quali sono però le basi sociali del fascismo? Il sostegno della grande borghesia agraria e industriale. Come mai gli altri partiti non temono l'entrata in Parlamento di Mussolini e di questo ex movimento così caratterizzato dalla violenza? Pensiamo alle squadracce, all'uso dei manganelli. Come mai non temono il fascismo? Perché pensano, da una parte, di poterlo strumentalizzare e poi liquidarlo. Altri invece, come i liberali, pensano che questo estremismo, questa violenza, siano soltanto di passaggio. In realtà, sbaglieranno a sottovalutare il partito fascista che prenderà sempre più potere. Infatti, nel novembre diventa un vero e proprio partito. Il 1922 inizia, quindi, con una serie di violenze da parte degli squadristi contro le sedi e tutti i sindacati di sinistra. Il contesto democratico è ormai compromesso. Addirittura al governo in questo momento c'è Luigi Facta, un liberale, che Mussolini prende in giro canzona dicendo «Quest'uomo è ininfluente, quando lo vedo mi viene voglia di tirargli i baffi». Quindi capite bene che ormai Mussolini vuole prendere la guida del paese. E come prenderà la guida del paese? Con la marcia su Roma, tra il 27 e il 28 ottobre del 1922. Sono i fascisti ad organizzare questa manifestazione eversiva. Decidono, partendo da Milano, di marciare fino a Roma. Attenzione, Mussolini non parte immediatamente insieme ai fascisti. Appende per vedere gli sviluppi. Abbiamo 25.000 camicie nere che affluiscono verso la capitale. Sono i protagonisti di uno dei miti fondanti del regime. Un mito per milioni di balilla che questa marcia la sogneranno. E per tutti i fascisti che a questa marcia non hanno partecipato. Queste camicie nere sono capitanate dai quadrumviri. Italo Balbo, Michele Bianchi, Emilio De Bono, Cesare Maria De Vecchi. Quindi che hanno il potere riprendendo anche proprio la terminologia del mondo romano. Mussolini, come vi dicevo, resta a Milano. Attene gli sviluppi. Il presidente del consiglio si prepara a resistere. Ma qui è molto importante la figura di Vittorio Emanuele III, il quale invece non firmerà lo stato d'assedio. Vittorio Emanuele III, di fatto, permette la fine dell'Italia liberale. Perché Mussolini otterrà proprio da lui l'incarico di formare un nuovo gabinetto, un nuovo governo. E il 30 ottobre a Roma è lo stesso Mussolini a presentare la lista dei ministri. Il re Vittorio Emanuele ha incredibilmente rifiutato di firmare il decreto di stato di assedio, dando il via, di fatto, al ventennio fascista. Inizialmente il governo è un governo di coalizione, quindi abbiamo fascisti, ma anche liberali, popolari ed esponenti delle forze armate. Ma Mussolini continua ad appoggiare la violenza eversiva delle squadracce e quindi anche tutte quelle azioni illegali. Tant'è che negli stessi partiti c'è molta opposizione per quanto riguarda Mussolini in una fase iniziale e c'è anche una certa titubanza da tutti quelli che si dichiareranno antifascisti. Tuttavia, dopo la marcia su Roma, ormai Mussolini prende il potere e decide di farsi chiamare il duce. Anche qui recupera sempre la terminologia al lessico della romanità, in quanto duce viene da dux, ducis e significa condottiero. Il comediografo irlandese George Bernard Shaw non si trattiene dal fare un po' di ironia sul duce. Inoltre, vista la violenza delle squadracce, decide di formalizzarle. Infatti, fonda la milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Quindi le squadracce diventano un esercito di partito che risponde agli ordini di Mussolini. Ancora, Mussolini cerca in tutti i modi di svuotare il Parlamento di ogni prerogativa e di ogni autorità. Quindi nel 1923 fonda il Gran Consiglio del Fascismo, quindi un organo supremo collegiale del partito, che pian piano prenderà il posto del Parlamento. In un primo momento, quindi dalla presa del potere del 1922, Mussolini si muove a livello economico seguendo l'approccio liberista. Quindi abolisce alcune tasse, mette un'imposta generale sui redditi, fa dei trattati commerciali con la Francia, con la Germania, con l'Austria, con l'Unione Sovietica e cerca di sviluppare l'industria e l'agricoltura. Tuttavia, la classe popolare è molto in svantaggio. Infatti, è colpita dalla politica di austerità e anche dalla riduzione del salario. Dunque Mussolini, già dalla presa del potere, inizia a favorire la grande borghesia e il capitalismo. Sempre in questi anni avremo la Riforma Gentile, riforma importantissima del 1923 di Giovanni Gentile, filosofo e anche ministro dell'istruzione, che ancora ha degli effetti tutt'oggi. Giovanni Gentile estende l'obbligo fino ai 14 anni, però privilegia anche gli studi umanistici rispetto a quelli scientifici e tecnici. Ci sarebbe molto da dire rispetto alla Riforma Gentile, per esempio, anche all'accesso universitario. L'indirizzo classico permetteva l'accesso a tutte le facoltà. Allora si chiamavano facoltà, oggi si chiamano dipartimenti, corsi di laurea. Il liceo scientifico dava l'accesso solo a determinati corsi. Quindi, vi erano tante differenze rispetto ad oggi, ma Giovanni Gentile è anche colui che istituisce l'esame di Stato di fine ciclo. L'esame che oggi noi chiamiamo di maturità, quindi l'esame di Stato. Non solo. Infine, dobbiamo dire che Mussolini, per mantenere il potere e anche una certa coesione, nonostante sia anticlericale, cerca comunque un riavvicinamento alla Chiesa. In particolare, con Papa Pio XI, che rostila al socialismo e che invece guarda con un certo favore il fascismo. Siamo ormai verso il 1924, anno in cui vengono di nuovo indette le elezioni. Dobbiamo però dire che prima del 1924 viene emanata la legge acerbo, che prende il nome dal ministro che l'ha varata, quindi da questa riforma elettorale. La legge acerbo introduce il sistema maggioritario, che cosa vuol dire? Che prevede un premio di maggioranza, quindi due terzi dei seggi, per il partito con più voti. Questo significa che nel momento in cui noi otteniamo circa il 25% dei voti, otteniamo il premio di maggioranza, e quindi due terzi dei seggi. Questa legge è stata molto criticata dai socialisti, però è stata approvata, proprio per fornire una sorta di salvagente prima delle elezioni, che poi si rivelerà inutile perché vincerà le elezioni Mussolini. Mussolini ancora vuole assicurare il successo della sua lista. Non è sicuro di vincere le elezioni, siamo nel 1924. E quindi che cosa fa? Crea un listone nazionale. Quindi si allea con liberali, ex popolari, chi appartiene alla destra, anche al mondo cattolico, e crea questa grande lista elettorale. Sono invitati a entrare in una grande lista elettorale tutti quegli uomini del popolarismo, del liberalismo, e delle frazioni della democrazia sociale. disposti a collaborare con una maggioranza fascista. I 6 aprile, in un clima di violenza, di appoggio di politici autorevoli, di brogli e di propaganda accesa, abbiamo le nuove elezioni. Vedete qui un volantino relativo alle elezioni del 24. Come vi dicevo, il fascismo vince le elezioni, conquista il 64,9% dei voti. Quindi il premio di maggioranza istituito con la legge acerbo ormai è superfluo. Il fascismo ha stravinto. Però il fascismo e Mussolini incontrano anche l'opposizione di politici, come Giacomo Matteotti. Siamo al 30 maggio del 1924, un mese dopo le elezioni. Giacomo Matteotti è un deputato del Partito Socialista e accusa il governo di deriva autoritaria. Badate, dice, il soffocamento della libertà conduce ad errori dei quali il popolo ha provato che sa guarire. La tirannia determina la morte della nazione. Il 10 giugno 1924, circa una decina di giorni dopo rispetto a queste parole, Matteotti viene aggredito, rapito e assassinato. Il suo cadavere viene ritrovato alla periferia di Roma ad agosto. Vedete il giornale, il popolo d'Italia, l'onorevole Matteotti vittima di un orrendo delitto politico. Cosa accade dunque? Accade che il 27 giugno, dopo la scomparsa di Matteotti, il cadavere non è ancora stato trovato, l'opposizione decide di non partecipare ai lavori parlamentari. La cosiddetta secessione dell'Aventino. Se ricordate, con secessione si intende di stacco. Secessione dell'Aventino perché rimanda alla secessione avvenuta nel 494 a.C., proprio sull'Aventino. come protesta per ottenere maggiori diritti per la plebe. Infatti, a seguito della secessione dell'Aventino verrà istituita la carica del tribuno della plebe. Bene. Qui, l'opposizione decide di non partecipare più ai lavori parlamentari in segno di protesta perché pretende che il governo faccia chiarezza a proposito della scomparsa di Matteotti. Nel 1925, il 3 gennaio, Mussolini si assume la responsabilità politica e morale dell'omicidio Matteotti. Se il fascismo è stata un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere. L'Aula risponde con un unico urlo. Tutti con voi, Presidente! E' questo atto a rappresentare l'avvio del suo regime autoritario. Ci vediamo alla prossima video-lezione. a Grazie a tutti.